Buongiorno ragazzi e bentornati in un nuovo video. Come avrete letto dal titolo, oggi facciamo una spesa però in un discount che ormai sta spopolando, soprattutto nel nord Italia, che si chiama Aldi. Me l'avete consigliato in tanti e quindi ci sono andata, devo dire mi ha colpito positivamente. Vi faccio vedere un po' di cosine che ho trovato da Aldi. All'inizio ci sono due gioie immense, adesso lo vedrete. E poi ci sono tutta una serie di cose che troviamo ovunque, che però sono a basso prezzo, che non vi ho mostrato. Ma ad esempio le uova biologiche oppure i latticini costano davvero molto meno che negli altri supermercati ed è una grande opportunità secondo me. Se vi piace questo video non dimenticate di lasciare un like, iscrivervi al canale e se volete supportarmi seguitemi anche sugli altri social. Ciao! Dunque vi ho messo le cose che secondo me valeva la pena, quindi poche cose. Iniziamo subito con la prima gioia, ovvero questi crumiri, finalmente burro e non olio di girasole. Stessa cosa per questo vaso da un chilo di taralli adatti. Ci sono anche in versione un pochino più piccola. Il può contenere tracce, io non lo considero. Poi vabbè filetti di tonno che sappiamo benissimo e pasta all'uovo. Ragazzi io spero che questo video sia stato utile. Come al solito scrivetemi nei commenti se volete altri supermercati. Iscrivetevi al canale se volete supportare il mio lavoro. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!